Ai tempi miei nei bei salotti ci si riuniva per poter d'andar tra damigelle giovanotti e sottovoce chiacchieva Ma chi si vede là è la Marchesa. Il baronetto pure è giunto qua, trombi sbigliar pettevole, bruciar di trine arguto corteggiar, si dava sfago ai propri vetti, quella su di barri d'acchiar. Ha 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 ha, una baronessa già fra i due ti finti qua, che conta i baffi finti in verità. Poi le fintormi al pianoporte si univano tutti attenti a basket, armavano i giovanotti la corolta che conci'ava a gorgieggiare. Ho 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 Anzi ma, oh 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 oh, io non resisto più, mi siedo un poco giù, oh 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 oh, ho il busto che mi stringe sempre più, ma l'inquilin del pian di sotto, tutto in fuliatto sale a protestare, e nel bel mezzo del salotto, così comincia ad abbaiare. Oh 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 oh, è il modo questo qui di non lasciar dormi, oh 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 oh, ai tempi miei non accadeva ciò, e piano piano tutti quanti, incominciavano timidi a indossar, bombetta con pastrano e guanti, e disdigliando a salutar. Oh 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 oh, oh oh oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 Grazie a tutti.